L'Assemblea di Garda Trentino S.P.A., l'azienda per il turismo, ha deciso nel segno della continuità. Marco Benedetti è stato confermato per il prossimo triennio nella carica di presidente al termine della seduta elettiva che si è tenuta oggi pomeriggio. Gli azionisti e i delegati, riuniti presso fiere congressi al Parco Lido di Riva del Garda, hanno votato all'unanimità per affidare a Benedetti il terzo mandato consecutivo alla guida dell'istituzione che si occupa di sviluppare progetti di sistema e prodotti turistici tesi a valorizzare l'identità del territorio. È il segno del gradimento per il lavoro di squadra condotto da Benedetti e dalla direttrice Roberta Maraschin in questi ultimi anni. L'ente di promozione turistica dell'Alto Garda vive infatti da tempo una fase caratterizzata dal costante trend di sviluppo. Tutti i dati dell'afflusso e delle prestazioni sul lungo periodo sono contraddistinti dal segno più al quale si associa la crescita del gradimento della clientela nazionale ma soprattutto internazionale. Nello stesso tempo la nomina di Benedetti è un ulteriore timbro di validità per la strategia operativa di Garda Trentino.